Grazie di cuore caro Raffaele, grazie a tutti voi, in bocca al lupo alla Ferrari, in bocca al lupo agli azionisti, a John Elkan, a Piero Ferrari, a tutto il mondo di questo straordinario marchio che non è un brand ma è una storia, passione, azienda. In bocca al lupo a Sergio Marchione, grazie per aver accolto l'invito di quotare anche a Milano, magari ci aveva già pensato lui da solo immagino, ma nel corso di un viaggio in macchina con Marchione ed Elkan a Melfi in uno straordinario stabilimento, abbiamo chiesto nel discutere tre cose, la prima di sfruttare il 2015 il Jobs Act fino in fondo e le ultime assunzioni a Chieti ne sono la dimostrazione, la seconda di non dimenticare Ilva e l'acciaio di quella straordinaria realtà e anche su questo ci sono stati segnali importanti, e il terzo di poter quotare anche a Milano la Ferrari, credo che questo gesto sia stato un gesto molto bello, molto importante, credo che debba essere seguito anche da altre realtà, almeno questo è il mio auspicio, che sono quotate fuori dal nostro Paese e la quotazione in borsa deve diventare sempre di più un elemento di trasparenza, di forza, di presenza. Lo dico anche perché in questo momento la Borsa di Milano ha avuto dei risultati straordinari, vorrei farvi i complimenti, più 13,2% l'aumento del 2015, il miglior aumento delle borse occidentali. Io credo che la quotazione di Ferrari sia una straordinaria occasione naturalmente per gli investitori, naturalmente per chi crede e sono tanti nella bellezza che si coniuga alla innovazione, all'ingegneria, e credo che sia un bellissimo messaggio per l'intero Paese. Penso anche che questo sia il momento nel quale l'Italia debba smettere di giocare con gli alibi, anche in queste ultime settimane leggo in tanti che dicono che la vitalità del nostro Paese deriva da fattori esterni, credo che fattori esterni è il nome che molti danno alla pigrizia, alla propria pigrizia, è un alibi spaventoso dietro al quale si nasconde che cosa? Il tentativo di giustificare le mancanze del passato. E invece, a mio giudizio, se guardiamo i dati di fatto, se guardiamo la realtà, l'Italia finalmente c'è, c'è in modo molto forte. I problemi della politica del 2015, quelli che a gennaio del 2015 erano nell'agenda della politica, non ci sono più. Questo non vuol dire che tutto sia stato risolto, ma l'agenda della politica del 2015 era fatta di articolo 18, di stabilità, di legge elettorale, di riforma costituzionale, di abbassamento dell'IRAP sul costo del lavoro, dell'Imu, della Tasi. Tutte questioni che non riguardano più la politica perché sono state affrontate. La politica deve fare molto anche nel 2016, penso alle banche di credito cooperativo, alle società partecipate da ridurre, al diritto fallimentare che deve cambiare, alle autorizzazioni, alla semplificazione, all'agenda digitale. Abbiamo moltissimo da fare, ma con la consapevolezza che l'Italia c'è, che l'Italia non deve aver paura del mondo. Io considero la quotazione di Ferrari questo messaggio a tutte e a tutti. Per anni abbiamo pensato che dovevamo stare chiusi, dovevamo aver paura dei mercati, del mondo, di ciò che ci girava intorno. E poi abbiamo scoperto che il nostro più grande alleato è la globalizzazione. E che se scendiamo in pista, se ci mettiamo a correre, siamo i più bravi del mondo. Ora io non vorrei essere arriva bene perché ho molto apprezzato la sovrietà con cui Marchionne non ha fatto per niente pressione su di lui e sul suo team, anche prima dandogli la piena e tranquilla collaborazione fin dal prossimo Gran Premio in Australia. Ma c'è qualcosa di più di una metafora in questo nostro messaggio. Cioè che l'Italia, se finalmente smette di aver paura di ciò che c'è fuori da lei, può tornare ad essere un punto di riferimento assoluto. Dobbiamo cambiare mentalità noi innanzitutto. Dobbiamo sapere che ci sono dei momenti in cui non si vince, quelli del passato naturalmente. Io appartengo a una generazione che non ha fatto in tempo a vedere i trionfi di Lauda. Io sono del 75, il periodo di pausa, mi pare che l'ultimo Mondiale fu il 79, prima di un periodo di pausa notevole. Ho fatto però in tempo a inaugurarmi della Ferrari con Gilles Villeneuve e con nel decennio forse peggiore dal punto di vista di risultati agonistici. Una grande scuderia, un grande marchio, una grande azienda sta anche a attraversare momenti no. Un grande paese può anche attraversare momenti in cui le cose non vanno. Ma poi si ha la forza, la capacità, l'intelligenza di capire che si può ripartire da quello che noi siamo, dall'identità della nostra bellezza, dall'identità della nostra forza. Allora il Governo ha chiuso l'anno nel 2015 con l'inaugurazione della variante di Valico e con i lavori a Pompei, due opere su cui eravamo in ritardo e accelerando abbiamo iniziato a recuperare il ritardo. Io vorrei che il 2016, che inauguriamo simbolicamente qui a Milano con la Ferrari, fosse l'anno in cui smettiamo di recuperare i ritardi e iniziamo a anticipare il futuro e iniziamo a correre più veloci degli altri. Da questo punto di vista in bocca al lupo di cuore a chi investirà in Ferrari, in bocca al lupo di cuore a chi anima la Ferrari con la straordinaria dedizione delle donne e degli uomini che da Maranello fanno meraviglie uniche al mondo e in bocca al lupo anche a chi continua a credere che la pagina più bella del nostro paese sia ancora da scrivere. In bocca al lupo a tutti noi. Facciamo come a teatro, un secondo plago, no perché ci dobbiamo scambiare un po' di donne. Eccoci, vi chiediamo ancora un momento. Grazie. Questo molto più piccolo è il tombstone, quello che noi chiamiamo tombstone. Questo lo metto accanto a quello delle poste. Esatto. No, partai, partai. Esattamente. Andiamo.